Per l'ex presidente a stelle strisce, le elezioni del 24 sono l'ultima spiaggia per salvare l'America. Donald Trump ha parlato davanti ad un circolo di fedelissimi a Columbia, South Carolina, all'esordio della sua campagna presidenziale. Si vanta di aver sfidato l'intero establishment di Washington e ha preso di mira la sinistra radicale, ma anche i ribelli del suo partito. Trump ha anche diffuso un video in cui dichiara di voler far costruire uno scudo antimissile impenetrabile ed ha assicurato di poter negoziare la fine della guerra in Ucraina in soltanto 24 ore.